104esima edizione della Popolarissima, la classica di primavera che si corre a Treviso. 104 anni, 104 anni di storia. Siamo con Renato Barzi, la soddisfazione, presidente dell'Unione Ciclisti Trevigiani, di riuscire ogni anno a mettere in cantiere una competizione di carattere internazionale. Beh, è sempre più difficile ogni anno, anche perché quei regolamenti che ci sono è un lavoro che dura tre mesi. E naturalmente devo ringraziare tutto lo staff della Trevigiani perché ci vuole dedizione e molto tempo. Diremo arrivati alla 104esima Popolarissima, è una cosa che penso che sia... Una delle corse più antiche d'Italia. Una corsa più antica d'Italia, ma oltre a quello ha un grande orgoglio per la Trevigiani e soprattutto per la provincia di Treviso tenere in piedi ancora la Popolarissima. È con queste parole del presidente Ettore Renato Barzi che si è aperta la 104esima edizione della Popolarissima. Valida quest'anno anche quale terzo Gran Premio Mion e Mosole, settimo Memorial Gino Barzi. Una classica per ruote veloci, quella che si è concentrata nel cuore di Treviso, con ben 12 tornate da compiere di 14 chilometri ciascuna per un totale di circa 175 chilometri. Alla via si sono presentati ben 171 atleti e tra loro il numero 1 andava alle maglie della San Gemini Trevigiani che in questa occasione hanno vestito proprio la maglia storica della UC Trevigiani, dorsale numero 1 per il Ligure Leonardo Bonifazio, uno dei più attesi al via. Sì, perché questa di Treviso è diventata l'occasione per mettersi in luce per tutte quelle ruote veloci che già sono state protagoniste in questo avvio di annata agonistica sui circuiti e sulle kermesse di inizio stagione. A dare il via l'assessore allo sport del comune di Treviso, Silvia Nizzetto, in compagnia ovviamente del presidente della UC Trevigiani, Ettore Renato Barzi. Come dicevamo, tante le ruote veloci al via, oltre a Leonardo Bonifazio, anche tanti corridori che hanno già vinto in questo 2019, come Gianmarco Begnoni della Viris Vigevano, Enrico Zannoncello della Zalf Aeromobile Desiree Fior, Cristian Rocchetta della General Store e anche Stefano Moro della Arvedi Cycling Team, oltre ovviamente alla rivelazione di questo avvio di stagione, Stefano Cerisara del Bike Team Nord-Est. Primi chilometri sul circuito cittadino di Treviso che volano via ad altissima velocità. Pensate che dopo la prima ora la media del gruppo era superiore ai 48 km all'ora. Un gruppo dunque che sfila sempre in lunga fila indiana tra le vie di Treviso per la gioia del folto pubblico che in una domenica primaverile ha scelto di venire a vedere, a applaudire questi ragazzi. Ricordiamo gara internazionale con diverse formazioni al via provenienti anche dall'estero. Una sfida tutta da gustare proprio perché si tratta di una gara veloce che scivola via su questo circuito che in alcuni tratti è decisamente scorrevole, mentre in altri molto più frizzante. Una gara sempre vivace, sempre viva grazie ai tanti attacchi che si registrano sin dalla prima tornata. Tanti attacchi che però proprio a causa dell'alta velocità tenuta dall'intero gruppo non trovano fortuna. Sino a quando si arriva verso metà gara e a prendere il largo è un terzetto. Un terzetto decisamente interessante composto da Lorenzo Wisintainer della General Store, da Jonathan Milan della Cycling Team Friuli e dal numero 84 del Bike Team Nord-Est Flavio Ceolin. Un terzetto ben amalgamato che trova subito l'accordo e riesce a scavare un buon solco sul gruppo. Infatti questo terzetto nel volgere di pochi chilometri riesce a guadagnare ben 50 secondi sul gruppo. Un gruppo che sembra prendersi una pausa, si allarga su tutta la sede stradale mentre i tre battistrada spingono forte sui pedali. E a spingere più di tutti è proprio quella Jonathan Milan in maglia bianco-nera del Cycling Team Friuli, accreditato al Via come uno degli uomini più veloci della formazione friulana che però ha scelto di andare all'attacco. Dietro le squadre iniziano ad organizzarsi, vedete anche la Work Service Videa che chiede l'UMI al DS Ilario Contessa, ma dopo alcuni chilometri il terzetto è costretto a dividersi. Alza a bandiera bianca infatti Flavio Ceolin del Bike Team Nord-Est, per lui alcuni dolori intercostali, mentre continuano nella loro azione Lorenzo Wisintainer e Jonathan Milan. Si passa quindi sotto lo striscione d'arrivo con il cartello di metà gara. Sette giri alla termine per i due battistrada, due atleti ben dotati, forti sul passo, che hanno già avuto modo di mettersi in luce in questo avvio di stagione e che sono alla ricerca di un risultato di spessore. Il loro tentativo è decisamente coraggioso perché di chilometri ne mancano ancora molti al traguardo e soprattutto alle loro spalle c'è un gruppo fitto, tenso, pieno di velocisti che non vedono l'ora di dare sforo alla propria potenza. Ma vedete che il gruppo in queste fasi lascia ancora fare ai tre battistrada, nonostante qualcuno tenti di lanciarsi all'inseguimento dei fuggitivi. Si transita davanti alle bellezze che caratterizzano la città di Treviso e l'intero Interland trevigiano e con Jonathan Milan sempre a dettare il passo. Sulla sua ruota Lorenzo Wisintainer, due ragazzi molto generosi che non danno segni di cedimento. È il gruppo invece a risvegliarsi, è il gruppo che chilometro dopo chilometro inizia a rosicchiare secondi a questi due battistrada. Un gruppo che dal vantaggio massimo di un minuto e mezzo inizia a ridurre il gap sui due battistrada sino a ridurlo ad una trentina di secondi. Dunque fuga sotto controllo per il gruppo guidato dalle maglie della Deglio Gallina e della Viris Vigevano, due delle formazioni più attese quest'oggi al via della 104esima Popolarissima. Davvero un spettacolo questa classica internazionale che ha portato nuovamente il ciclismo giovanile sulle strade di Treviso e vedete che un gruppetto si sgancia dalla testa del gruppo e va a raggiungere i due protagonisti di giornata. Dunque ripresi Lorenzo Wisintainer e Jonathan Milan, i due generosi attaccanti che avevano tentato di prendere il largo poco prima di metà gara, dunque si devono arrendere e il gruppo torna a sfilare compatto sulle strade di Treviso. Sullo sfondo la Porta Santo Maso, quella che è sede storica della UC Trevisiani che da oltre un secolo promuove questa manifestazione. Una gara, dicevamo, sempre viva, infatti non c'è nemmeno il tempo di registrare il gruppo compatto che a prendere il largo è una nuova azione, un'azione decisamente ancora più interessante rispetto a quella che avevamo visto perché a portarla sono 22 atleti. Un gruppo decisamente folto, quello che prende il largo, ed è composto da Fabio Mazzucco e Filippo Zana della San Gemini Trevigiani, Luca Colnaghi della Team Colpac, Marco Murgano della Casillo Maserati, Edoardo e Gregorio Ferri della Zalfero Mobile Desirefior, Riccardo Bobbo della Gallina Colosio Aurofeed, Samuele Zambelli della Iseo Rime e Carnovali, Simon Pellode e Samuele Zoccarato della Yam Excelsior, Enrico Salvador della Northwave Coffee Lock, Cristian Rocchetta e Daniel Smarzaro della General Store, Manuel Belloni del VC Mendrisio, Flavio Tasca che vedete ora al comando della Work Service VIDEA, Ivan Mirri della Named Rocket, Nicola Venchiarutti del Second Team Friuli, Felix Engelhardt e Samuele Rivi della Tirol KTM e Davide Ferrari della Beltrami Opla Petroli Firenze. All'inseguimento di questi 22 uomini si porta in testa al gruppo il team in Emilia-Romagna. La formazione è costituita anche su ispirazione della CT Azzurro Davide Cassani che tenta di ridurre il gap nei confronti dei 22 attaccanti, ma il lavoro della squadra emiliana dà i suoi frutti, tiene i fuggitivi ad una trentina di secondi, ma non riesce ad andare a riprenderli. E dunque disco verde per i 22 attaccanti che si apprestano ad affrontare anche l'ultima tornata delle 12 in programma, quella sicuramente più difficile, quella che porterà al traguardo dopo 175 km e intanto il gruppo rimane sulle loro tracce. 25-30 secondi il vantaggio si stabilizza su questa soglia per i 22 attaccanti. I 22 attaccanti che come avete sentito dai nomi comprendono anche alcuni dei nomi più attesi al via, uno su tutti sicuramente il velocista scaligero Cristian Rocchetta della General Store che si impone regolarmente negli sprint di gruppo e che quindi a ranghi ristretti potrebbe davvero avere l'occasione di andarsi a prendere questa popolarissima numero 104. Ma in testa alla corsa, lo vedete, siamo ormai al suono della campana, non c'è un accordo, troppi componenti di questa fuga per riuscire ad organizzare una doppia fila vera e propria. Quindi si procede a scatti con il gruppo che è sempre più vicino al suono della campana. Infatti il vantaggio dei 22 battistrada si riduce ad appena 17 secondi. Dunque 17 secondi a cui sono appesi i sogni di gloria di questi 22 attaccanti. Intanto il pubblico inizia a riversarsi sul rettifilo d'arrivo, manca davvero pochissimo ormai al traguardo, poco meno di 15 chilometri e in testa alla corsa si continua a scattare. Il gruppo arriva veramente alle calcagne di questi 22 battistrada. Il ricongiungimento sembra ormai imminente ma colpo di scena. Dalla testa del gruppo si sganciano 4 atleti che riescono a rientrare sui 22 attaccanti mentre il gruppo resta escluso dalla fuga. A rientrare sui battistrada sono Paolo Totò della San Gemini Trevigiani, Pasquale Abbenante della Zalfa Aeromobile Desiree Fior, Mattia Cristofaletti della Viris Vigevano e infine lo svizzero Ghe Kentin della Yam Excelsior. E quindi con 26 attaccanti e le maglie della UC Trevigiani in testa a tirare nel gruppetto dei battistrada, il gruppo davvero sembra faticare per provare a rientrare in su questi attaccanti. Un gruppo che non riuscirà a chiudere incredibilmente il gap minimo che si era costituito al suono della campana. Quei 15 secondi rimangono decisivi, anzi si allargano. Il distacco del plotone si dilata negli ultimi chilometri, raggiungendo anche oltre i 30 secondi. E dunque la vittoria è a fare ristretto a questi 26 attaccanti, tra cui, lo ricordiamo, figurano alcuni dei velocisti più attesi al via. Uno su tutti Cristian Rocchetta, ma anche, attenzione a Nicola Venchiarutti e soprattutto a Samuele Zambelli già sul podio della Coppa San Geo. Si va velocissimi verso il lungo rettifilo d'arrivo, dove il pubblico delle grandi occasioni è pronto per raccogliere questo sprint a ranghi ristretti. Il plotone ormai è tagliato fuori, dunque, dalla lotta per il successo. Volata a 26 e a prendere la testa ai 300 metri dal traguardo è il friulano in maglia bianco-nera Nicola Venchiarutti del Cycling Team Friuli. Prova a rivenire su di lui Cristian Rocchetta, ma ormai è fatta per Nicola Venchiarutti, che taglia il traguardo davanti a Cristian Rocchetta, Samuele Zambelli della Iseo Rime Carnovali, quindi Paolo Totò della San Gemini Trevigiani e Gregorio Ferri della Zalfero Mobile Desiree Fior. Questi i primi classificati della 104esima popolarissima, mentre il gruppo sprinta per la 27esima posizione. Una volata, purtroppo, inutile per le attesissime ruote veloci di questa classica trevigiana. E dunque, con il primo successo stagionale di Nicola Venchiarutti e del Cycling Team Friuli, può andare in archivio la 104esima edizione della popolarissima, non prima di aver ascoltato le interviste realizzate dopo il traguardo. Nicola Venchiarutti, una grandissima volata. Eri il leader per la volata di questa popolarissima. Sì, sono abbastanza veloce. Poi la gara si è messa nei migliori dei modi per me, con un gruppetto davanti. E così ho potuto giocarmi le mie carte, che sono abbastanza veloce. Ho preso la volata di testa, stavo molto bene. Per fortuna nessuno mi ha rimontato. Quando siete andati in fuga, pensavi di potercela fare? Pensavate di poterci arrivare alla fine? C'erano nomi importanti dentro e quindi speravo. Poi ho visto che il gruppo dietro mi seguiva, ma non ce la faceva. E allora ci ho creduto. Ma voglio dedicarla a tutta la squadra, ad Altin Friuli, agli allenatori, a tutta la squadra, a questa fantastica squadra. Sindaco Mario Conte, lei a un chilometro dal traguardo stava già facendo i complimenti a Fausto Pinarello. Ha vinto un corridore su bici Pinarello, simbolo di Treviso, come il ciclismo è simbolo di Treviso. Eh sì, Pinarello è marchio di qualità, qualità che trasmette nei suoi prodotti, però poi credo che il campione che ha vinto abbia anche avuto delle buone gambe, perché la bicicletta è molto importante, ma poi la fa l'atleta. E quindi faccio i complimenti, ma in realtà faccio i complimenti a tutti, anche a quello che è arrivato ultimo, perché oggi ha vinto lo sport, ha vinto il ciclismo, e soprattutto hanno vinto questi ragazzi che sono il lato bello della gioventù, perché vedere questi ragazzi di vent'anni che si impegnano con determinazione e con passione per uno sport oggi è molto importante, quando purtroppo abbiamo anche degli esempi che sono invece molto negativi e che non hanno nulla a che vedere con lo sport. E lo vediamo purtroppo, Mari, quando imbrattano le colonne dei nostri monumenti, avevano proprio vent'anni, quindi preferisco molto questi giovani e complimenti a chi ha vinto. Renato Barzi, soddisfatto di questa edizione internazionale della Popolarissima? Beh, soddisfatto sicuramente, prima di tutto per l'organizzazione, oltretutto perché ho visto veramente una marea di sportivi sulle nostre mure, diremmo così, tribune naturali. L'importante è che come società che sia andato tutto bene. Abbiamo avuto i complimenti dal presidente di giuria che è una signora portoghese e pertanto soddisfatti. Poi dal lato tecnico, sai, speravo, speravo veramente magari di salire sul podio e invece pazienza. La maglia della Trevigiani l'avete indossata ugualmente? La maglia della Trevigiani l'abbiamo indossata con molto orgoglio. I ragazzi si sono, ho visto che si sono dati da fare e continuiamo, andiamo avanti. Grazie a tutti.